Buonasera studenti ci siamo? Oh e mi dispiace tantissimo. Che brutto inizio. Benvenuti all'episodio 30 di Caffè Italiano con Manu. Io sono Manu stressato. No Manu Vinditti. Tutto a posto? Benissimo. Mi dispiace molto per i problemi tecnici ma cominciamo. Questo è l'episodio 30 di Caffè Italiano. Ma che cos'è Caffè Italiano? Caffè Italiano è credo l'unico programma su YouTube trasmesso dal vivo per studenti di italiano dove parliamo un italiano più facile da capire un po' più lento un po' più chiaro spero. Tutto ok? Faccio un piccolo controllo. E' troppo importante. Benissimo benissimo. Allora. Vorrei dare il benvenuto a tutti voi studenti che mi conoscete ma anche a tutti gli studenti nuovi. Ci sono studenti nuovi nella chat? Rispondete nella chat. Scrivete se siete studenti nuovi, mi piace, mi piacerebbe conoscervi, sapere chi siete. C'è qualcuno che sente ancora la musica ma non c'è musica, prometto, non c'è musica. Scrivete a tutti voi. Se siete studenti nuovi, mi piace, non c'è musica. Come esiste? Mi piace, non c'è musica. Ecco. E' un po' più. E' un po' più. E' un po' più. E questo è un po' più. Ma la cosa importante è avere una opportunità per ascoltare l'italiano e fare pratica. Buonasera a tutti. Buonasera in Alabama. Buonasera a tutti gli studenti nuovi e cominciamo cominciamo e prometto perché adesso è tardi lo so abbiamo perso dieci minuti. Buonasera a Washington. Buonasera a tutti gli studenti i studenti. Buonasera a tutti gli studenti, bunci. Queste le persone mi facciano tutti i libri di Torino lento lunga la carta Ma proviamo. Proviamo a fare il gioco della definizione. So ora non vedete niente ma datemi un secondo. Eccoci qua. Allora. Liquido usato per generare movimento in un'automobile. Liquido usato per generare movimento in un'automobile. Che significa? Qual è questo gioco? Allora questo gioco è che io do la definizione. E voi dovete scrivere in italiano se sapete di che cosa parlo. Che cos'è il liquido usato per generare movimento in un'automobile. E vedo molte risposte. Vedo molte risposte. Un attimo che ho un po' la paranoia. Benzina. Benzina è la benzina. È la benzina. La benzina è il liquido che mettiamo nella macchina per camminare. per fare andare la benzina. Sì. Perfetto. Perfetto. Vediamo. Facciamo un altro giro. Facciamo un altro giro. Ma vogliamo parlare di questa camicia. Parliamo di questa camicia. È un mix fra kitsch e bella a me piace molto perché dice Roma. La mia città preferita. E ci sono tutti i monumenti di Roma. È bella, no? È in italiano abbiamo una parola che viene dal dialetto napoletano che è sfiziosa. È una camicia sfiziosa. Sfizioso significa carino, interessante, unico, sfizioso, sfizioso. Ok, facciamo un altro giro. Ho avuto un inizio col panico. Ho avuto un'altra. Ho avuto un'altra cosa Perché le stanze una cosa importante è se voi tornate a questo video fra tre, quattro, cinque giorni trovate i sottotitoli in italiano. E potete rivedere il programma che vuol dire grego non ti ho capito ma grazie a tutti edy la vespara che non si muovere è perfetto perfetto così ascolta e immagina parlo di camicia quindi questa la parola per camicia ma adesso giriamo la ruota la ruota Alex ti garantisco che non è Versace 15 dollari 10 euro una camicia molto economica e una camicia economica che cosa è uscito verbo questo è difficile perché io vi chiedo di coniugare dei verbi ricordatevi che questo è un gioco non è una cosa importante e ci sono verbi che che conosci o o meglio ci sono tempi verbali che conosci e tempi verbali che non conosci e va bene così allora vediamo se funziona qui mi chiede un po' il lavoro e Nel presente che dice noi facciamo così se posso prendo. No volevo prendere la chat. Niente oggi non posso fare niente. Non funziona niente. La chat. Ok la chat è lì. Capiamo. Noi capiamo. Tolgo questa che forse non cambia niente. Che casino oggi? Quindi quando uno è stressato capiamo capiamo noi capiamo controlliamo è giusto capiamo non si vede capiamo perfetto facciamo il prossimo facciamo facciamo tre tre verbi o anche quattro capire di nuovo il futuro semplice loro come si dice in italiano se non conosci il futuro non ti preoccupare lo impari oggi questo è un gioco è un divertimento non è una lezione capiscono capiranno capiscono capiamo capiranno capro quasi capiscono il presente loro capiscono adesso Adesso il presente il futuro il futuro è l'ho visto nella chat capiranno 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 loro capiranno facciamo il prossimo accendere questo è il verbo accendere che significa lo vedi lì accendere la televisione la macchina la luce possiamo accendere molte cose ma che cosa vogliamo sapere che crudele questa è una crudeltà incredibile vogliamo il trapassato prossimo di tu allora trapassato prossimo ma che è che è questo trapassato prossimo Manu il trapassato prossimo è come il passato prossimo è il trapassato prossimo è difficile non molti lo conoscono i miei studenti di from zero to Italian nel corso intermedio 2 conoscono questo verbo vediamo il trapassato prossimo è difficile non molti lo conoscono i miei studenti di avevi acceso avevi acceso avevi acceso Jorge Michael acceso una solo una S difficile lo so Greg è difficile avevi acceso avevi acceso vediamo vediamo la risposta quindi se tu conosci l'imperfetto conosci il trapassato prossimo ecco un regalo di Italy Made Easy e quindi se tu conosci l'imperfetto chiuso tanto per la prima Italia che è andato a dire non è un'imperfetto e ho ancheionato l'imperfetto c'è undambo buongiorno è un'imperfetto di del trucco perché ho scoperto che. Mettendo il verde sul naso rosso il naso è quasi normale. Quindi ho imparato una cosa che il verde sul rosso toglie il rosso la magia allora che questa è la prima volta che mi capita di partecipare un live che figata benvenuto benvenuto benvenuti tutti. Purtroppo abbiamo avuto problemi all'inizio. Abbiamo 142 studenti su YouTube. Non so quanti su Facebook spero tanti 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 anche su Facebook. Potete scrivere i messaggi da YouTube e da Facebook va bene. Quindi continuiamo facciamo un altro giro di ruota. Un altro giro di ruota. perfetto a tutti voi. Allora che succederà che ci sarà. Scrive". Il dettato allora molti studenti molti di voi amano il dettato. Molti studenti non molto non amano molto il dettato ma per me il dettato è un'attività importante l'italiano è una lingua fonetica quindi se tu riesci a ad ascoltare a identificare le parole e a scriverle riesce anche a parlare l'italiano meglio quindi cosa facciamo adesso. Facciamo il dettato dettato. Allora io vorrei che voi nella chat. Scriviate. Quello che io ho detto. Speriamo che funzioni allora un attimo un attimo. Siete pronte? Allora scrivete nella chat quello che io dico potete aspettare e scrivere tutto alla fine o potete scrivere mentre io parlo. Pronte? Scrivete nei commenti eh. Maria ha preparato. Prima prima leggo tutto prima leggo tutto il testo. Guardo lì. Maria ha preparato la cena con la sua coinquilina. Dopo aver assaggiato la torta hanno chiacchierato sedute sul divano fino a tardi. Allora vedo che ci sono parole difficili di spelling. Siamo pronti? Maria ha preparato la cena. Maria ha preparato la cena con la sua coinquilina. con la sua coinquilina parola nuova eh punto, 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 punto periodo. Dopo aver assaggiato. dopo aver assaggiato ascoltate bene assaggiato dopo aver assaggiato la torta la torta virgola virgola prima rischio sentite bene assaggiato con la sua coinquilina parola nuova come da voi. Allora vediamo qui. Todo il testo. Allora è finito. Leggo di nuovo. Siamo pronti? Leggo di nuovo tutto il testo e se potete scrivere nella chat tutto il testo. Per favore. Così io guardo sulla chat e posso dare feedback. Maria ha preparato la cena con la sua coinquilina. Dopo aver assaggiato la torta hanno chiacchierato ed è una parola difficile. Se Paul Maria ha preparato la cena con la sua coinquilina dopo aver hanno chiacchierato e quasi quasi quasi. Guardiamo la risposta. Guardiamo la soluzione. E poi la risposta è una parola difficile. E poi la risposta è una parola difficile. Se riusciamo. La vedete? Spero di sì perché è un po' piccola ma posso fare così forse. Maria ha preparato la cena con la sua coinquilina. Dopo aver assaggiato la torta hanno chiacchierato sedute sul divano fino a tarda notte. non so come appunto la tua broadcalla. Maria ora basta. Ma sì. E' difficile. Fa tutto. E' difficile avere tutto sul mio schermo. Funziona. Facciamo così. Maria ha preparato la cena. Capito. con la sua coinquilina che cos'è la coinquilina che significa coinquilina è la persona che abita con te. Per esempio io abito solo non ho coinquilini. Mia cugina è all'università e lei abita con un'amica. Questa amica è la sua coinquilina o coinquilino per un maschio va bene. Quindi coinquilino è una parola bella strana. Dopo aver assaggiato la cena la torta. Assaggiare significa provare provare. Dopo aver assaggiato dopo aver provato la torta hanno chiacchierato. Chiacchierare chiacchierare ci siamo che conoscete chiacchierare. Lo spelling di chiacchierare è difficile. Significa parlare. Parlare. Animatamente si chat in inglese esatto. Hanno chiacchierato sedute. Io sono seduto seduto. Adesso non so se posso ma in piedi seduta. in inglese esatto. Quindi sedute sul divano. Questa questo non è un divano. Questa è una poltrona. È una poltrona ma il divano è il divano o sofa. Fino a tarda notte. Quindi fino a mezzanotte l'una le due boh non lo so. Per me tarda notte sono le 10 ma in Italia tarda notte l'una le due le tre boh. Ma ho una domanda per voi. Ho una domanda così. a che ora andate a letto voi. A che ora vai a letto. Scrivete la risposta nel nei commenti e io. Bevo un po. Allora ho visto il fisioterapista il chiropratico e l'agopunturista quindi si sto molto bene sto molto bene grazie. La settimana scorsa ho avuto un piccolo incidente in palestra e mi sono stirato stirato un muscolo qui il gluteo qui in fondo la schiena. 發to campana e cuore a un'altra. Acquanto scorsa io mi sono girato gli 바lı eviabili. Via, via. Via, via. Via, via. Via, via tarda notte. Via. Via. Via, via. Troppo. Via. 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 Incredibile. Allora, io io personalmente vado a letto molto 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 presto, alle 9 di solito, ma mi alzo, mi sveglio molto molto presto. Mi sveglio alle 4, 45, le 5 al massimo. In Italia di solito si va a letto più tardi, verso mezzanotte. Normalmente le 11 e mezzanotte è l'orario normale per andare a letto. Allora, io non so assolutamente che ore sono, perché la tecnologia è tutta bloccata. Continuiamo. Andiamo avanti. Mi sto divertendo. Non cadere. Controllo l'ora, scusate. Ok, che è uscito? Scrivi? No, no, basta. Basta. Basta scrivere. Allora. Ho un bel proverbio. Questo mi piace. Proverbi, i proverbi sono carini. Non sono molto utili, ma questa lezione è un esercizio di ascolto, non è un esercizio di di altro. Allora, se io trovo il mio proverbio, vi faccio vedere il proverbio di oggi. Anzi, ne ho due, ho due proverbi. Allora. No, un attimo. Questo è stato un'esercizio di ascolto. Allora, non è un esercizio di ascolto, non è un esercizio. Non ho due proverbi. Allora, questo è considerato un'esercizio di te. che significa chissà allora ambasciatore come in inglese è uguale l'ambasciatore il console l'ambasciatore l'ambasciatore ambasciatore non porta pena che è molto simile in inglese non proprio non proprio quindi ambasciatore non porta pena sì in inglese ambassador non lo so è complicato ti do il contesto ti do il contesto Io vengo da te e ti dico guarda ieri ho scoperto che una cosa brutta ho scoperto che il tuo ragazzo o la tua ragazza sta con un'altra persona ho visto il tuo compagno la tua compagna con un'altra persona ma ambasciatore non porta pena ambasciatore non porta pena Eleonora giusto in inglese in italiano in italiano non si è colpevoli dei messaggi che si portano io porto il messaggio ma io non ho non ho non ho a che vedere io non ho responsabilità del messaggio se lo vuoi rivedere eccolo lì ambasciatore non porta pena Bene Pena nel senso di dolore dolore pena pena nel senso di Quindi l'ambasciatore porta il messaggio ma non il dolore, 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 così, questo è il dolore. Quindi don't shoot the messenger ma vediamo se il prossimo, il prossimo. Questo forse è più facile. Chi dorme non piglia pesci. Chi dorme non piglia pesci. Il verbo pigliare è un verbo italiano che non si usa molto ma i proverbi sono vecchi. Pigliare significa prendere. In spagnolo è simile. C'è anche in spagnolo questo verbo. Chi dorme non piglia o non prende pesci. Vediamo. Lens. Jim Lemon, grazie come sempre Manu, devi andare buona serata a tutti. Who sleeps doesn't catch the fish. Beh, sì, letteralmente sì. Allora, sì, questo ho detto che era più facile da capire. Allora, sì, per ottenere qualcosa occorre darsi da fare, ma la spiegazione è, avete ragione voi. Quindi bisogna essere attivi nella vita perché altrimenti non abbiamo risultati. Quindi ti alzi presto è meglio, dice Juan. Sì, per questo io mi alzo presto, perché voglio prendere i pesci. No, io non prendo i pesci, io guardo i pesci. Linda, nothing ventured, nothing gained. Simile. Sì. Sì, in alcuni contesti ho Laura, you snooze, you lose. Praticamente, praticamente sì. Ok. Domanda. Voi avete preso il caffè oggi? Io ho una grande novità. Una, un successo per Manu. Adesso bevo un caffè al giorno, solo uno. Prima io bevevo tre, tre caffè forse al giorno. Mai quattro, tre, tre. Ma uno è ottimo. Vediamo un po'. Scrivetemi se voi avete già preso il caffè oggi. Io ho preso il mio primo e unico caffè. Espresso, piccolo. Ma oggi non ho preso il caffè. Chi altro? Assolutamente, dice Eleonora, non posso funzionare senza caffè. È difficile. Solo uno, dice Anne. Sì, solo uno. Solo uno. Susan, ne ho presi due. Susan ne ha presi due. O ha preso due caffè. Eccellente italiano, ottimo italiano. Dice Hayden, non beve il caffè perché è un mormone. E' meglio così. Bravo, bravo. C'è anche, vedo, chi non beve caffè. C'è Lenzi che beve solo un caffè. Un caffè. Un caffè è giusto. Secondo me un caffè è con moderazione. Va anche bene. Ma è meglio non bere il caffè. Secondo me. Allora, facciamo un altro giro. L'ultimo giro. Sì? Io non so a che ora sono. Vogliamo continuare? Abbiamo perso dieci minuti all'inizio. Sì, facciamo un altro giro. Altro giro. Giro, giro, giro. Allora, che cosa uscirà? No. Ok, facciamo un imbroglio. Vediamo. In questo gioco, in questa attività, io dico una parola che probabilmente conosci. Sì, è una parola che conosci forse. Ma io vorrei la descrizione, la definizione in italiano. Quindi io faccio vedere una parola e tu scrivi nei commenti in italiano che cos'è. È difficile. Questo è un esercizio di livello intermedio o avanzato. Non è facile. Ma l'importante è giocare. Frigorifero. Il frigorifero. Che cos'è? In italiano. Che cos'è il frigorifero? Questo è difficile. È un gioco difficile. È la prima volta, forse. La seconda volta. Remy, ti piace la Juventus? Ti dico la verità. Io non seguo lo sport. Non seguo nessuno sport. Faccio sport, ma non guardo sport. Sì, è il... No, 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 ragazzi. No, 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 no. Scrivete la definizione. Per esempio, Jenny è un posto per il cibo freddo. Nick è una scatola per contenere cose calde, fredde, cose fredde. No? È un contenitore per conservare i cibi. È il posto dove si mettono il cibo per mantenerlo. È una macchina che fa caldo. No, fa freddo. Il frigorifero fa freddo. David mantiene le cose fredde. Scusate, è molto veloce. È un posto dove si mette il cibo. È un posto per mettere il cibo freddo. Complimenti, ragazzi. Bravissimi. È un oggetto per il cibo freddo. Vedo che è una scatola di metallo e ce l'è, è eccezionale. È dove si mette, dove si mettono cibo e bevande per essere fredde. È una macchina per, è una macchina per tenere freddi i cibi. O il cibo, possiamo, generalmente diciamo il cibo nel singolare. Quindi questo è il frigorifero. Frigorifero, quindi in inglese fridge, refrigerator. Ma la descrizione è difficile. Complimenti. Facciamo un'altra? Facciamo l'ultima? Facciamo l'ultima cosa? O abbiamo, o finiamo qui? Che siamo stanchi? Siete stanchi? Scrivete nei commenti se volete fare un altro. Allora, facciamo l'ultimo, 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 l'ultimo che voi dovete dare la definizione. La parola è scarpa. Scarpa. Io non ho le scarpe. Io non ho mai le scarpe, ma scarpa. Scrivete che cos'è la scarpa o che cosa sono le scarpe. Allora vediamo che cosa c'è. Vediamo abbiamo 155 studenti su YouTube non so quanti su Facebook. Buonasera a tutti ben arrivati. Ricordatevi di tornare a guardare il video con i sottotitoli. Allora è un vestito per i piedi. Mi piace è un oggetto per mettere i piedi. È un pezzo di tessuto che portiamo alla gola. No, non alla gola, no. È una protezione per i piedi. Copre le scarpe. È quello che si usa per camminare. Io uso i piedi per camminare. fatti e ho messo il video dove parlano tutti i piedi per camminare inordine. No, non sono i piedi per camminare. Da me ne sono i piedi. Ma devo vedere ci sono le scarpe quando camminiamo. È una muscolta per camminare. È un po' altra cosa. Ma io ho un po' altra cosa che c'è. Ma io ho un po' altra cosa. è piaciuto l'episodio 30 io ti consiglio di continuare a seguirci se non hai ancora fatto subscribe fai subscribe iscriviti al canale attiva le notifiche e vai su Italy made easy per scoprire i nostri corsi se vuoi imparare l'italiano con noi se vuoi parlare con noi noi abbiamo un servizio di video chat per praticare l'italiano e altrimenti basta ci vediamo nel prossimo video domenica e qui per caffè italiano episodio 31 ci vediamo non so quando ma è l'ultimo giovedì di ottobre no scusate il primo giovedì di novembre c'è il prossimo caffè italiano e l'ultimo giovedì di ottobre c'è un Q&A dove puoi fare le tue domande di grammatica a me questo è veramente tutto no ecco appunto scusate la tecnologia oggi proprio non funziona io vi saluto vi do un bacione e ci vediamo presto ciao